Cominciamo, oggi stasera abbiamo addirittura due uomini in vetrina, uno un po' attempato che conosciamo da tanti anni e un altro, signor Poggiaspalla, un altro, Michele Benedetti, numero 7, gioca nel Falco a Colagna, sempre, sempre solo nella Falco a Colagna. Questa sera sei l'uomo vetrina di questa serata, della seconda giornata delle finali, parlaci di te Michele. Niente, gioco nella Colagna da quanto sono piccolo, abbiamo fatto questo tornio con gli allievi e tre prestiti, siamo andati molto bene, abbiamo fatto un bel gioco, peccato per stasera perché dava più gusto a vincere. Ah, adesso, hai scoperto l'America. Abbiamo altri due uomini in vetrina, il primo, eccolo qua, Luca Fraternali, gioco attaccante nell'Urbania e ci siamo presentati a questo tornio con una squadra giovane e abbiamo cercato di fare di tutto per vincerlo ma diciamo che... Non ci siamo riusciti? No. Non ci siamo riusciti nelle nostre aspettative e... dai, comunque ci siamo divertiti, è stato un bel tornio e lascio la parola a Jacopo Pueri. Ah, bene. Pueri ha anche segnato gol, non ho sbagliato nome, no, tu non ce l'ho, Fraternali. L'ultimo a questo campo. Ah, beh, oggi, sì, 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 no, no, Pueri invece ce l'ho proprio nel, sì, ho sbagliato Ducci, quando lo vedi chiedi gli scusa, perché ho scritto Pucci, ma è stata una... Vabbè, dimmi Pueri, allora, sentiamo Pueri. Mi chiamo con Pueri, gioco a centrocampo nell'Urbania, è stato un bel torneo, ci siamo divertiti e come ha detto già il mio compagno, abbiamo una squadra giovane, però alla fine di Conti è stato un bel torneo, ci siamo divertiti e poi arrivavamo tutti amici, quindi... Vi è piaciuto il livello di questo torneo? Sì, aveva un bel livello. Quindi è una cosa da rifare, secondo me, eh? Sì, sì, secondo me sì, noi parteciperemo sempre, speriamo. Speriamo sempre, metteremo una telecamera anche dietro le porte, quindi siamo proprio sicuri di... Come la Serie A. Sì, proprio come la Serie A faremo, va bene? Ok, tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Non mi fregate la piadina con la Nutella, perché insomma, va bene, grazie a voi.